Ecco qua, sono svegliato, non ho dormito niente stanotte, caffè americano, buonissimo, allora, veniamo alla cosa che ci importa più, cioè a me mi importava un sacco, la velocità di internet, anzi, io ho notato che anche col wifi va lento, non lo so, forse perché è ok, non l'avevo mai guardato nessun sito, non ha molta cache, Comunque facciamo, ho fatto delle prove, prima col mio browser ho usato camino, perché non lo uso mai e così non aveva niente di cache, ora andiamo nel Safari, adesso il wifi è attivato, attenzione, andiamo in gadget. Mmh, velocità basilari in questo demo, eh! Dove cazzo sono i miei bookmarks? Me li ha scasinati tutti, ho visto! Eeeh, non cazzo. Uno poteva dire, eh non ti potevi fare una lista? No, troppo facile, mi piace live. Ora, bookmark bar. Ah, ok. Mmh. Pronti con il cronometro, eh? Allora, bookmark bar. Ok, ok. Allora, il mio browser ci ha messo 20 secondi. Qui si viene ancora niente. E' qualcosa. E' molto più lento che il wifi normale. Un foo. Un foo. Porta indietro. No, no, no. Qual è? 45 secondi in confronto a 20 che ci avevo messo col browser normale. Adesso vediamo. E qui sto a dolore. Gicchissimo. Uno dei miei siti preferiti, ma uno dei più lenti in assoluto. Ma non lo so da detto che c'è problemi col server, lo deve cambiare. Ci ha messo il mio browser un minuto e trenta. Vabbè, potevo iniziare a leggere, ma io ho guardato da... Dalla fine... Allora, Gicchissimo. Uno, due, tre, uno, and... Se avessi su per un minuto e trenta... Lo sto per ricercare la minuto e trenta. Sì, sì, si inizi a leggere, ma... Le figure... Soprattutto il background. Il background è quello che ci dite un po' più... Minuti. Poi, se sorprendentemente, pensavo che il mio... Sicchissimo che adesso ho fatto, molto sperimentale con tutti i widget, Il post è lentissimo, perché ci ha messo una... Oh, l'hai già fatto? Però si vede che cammino è una merda, non lo so. Con 54 secondi! Molto... 54... A meno che il Gicchissimo l'avevo visto ieri, allora ce l'avevo già un po' in cache. Potrebbe essere. Vediamo il mio sitissimo, che non l'ho mai guardato, che sicuramente non andrà, perché è pieno di javascript, jquery, fantasticissimo. Allora... Può digitare anche qualche storia orizzontale, che all'inizio si dice... E' molto più comodo, allora. Allora... Eh... Voxypega... To com... Nooo! Nooo! Slash... Sto.com slash... La cosina, la chiocciola... Spesso non... Allora... Widget... Sto spettinato, eh! Ok... 3... 2... 1... Sto spettinato, eh! Sto spettinato... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 4... Ah, però lì l'immagine che si vede è connessa a Flick, quindi cioè i javascript vanno! Si diceva che i javascript non andranno, ma che bella sta pagina! Ah, vediamo se riesco a... Ah! Perché se andate, no? È molto bello, eh! Questi widget qui li potete muovere, sono dragbol! Però... Però qua non vanno, perché... Però evidentemente Flickr va lo stesso perché è javascript ma ci sono... Va bene, allora a posto, ricapitolando... 29 secondi... Ah, non ho finito il mio test! Bah! Vi devo far vedere, adesso ho senso wifi! E lì sono dolori! Allora andiamo... Aspetta... Andiamo in settings... Andiamo wifi... Off... E si ridemo... Allora... Che faccio adesso? Vabbè, facciamo oggetissimo lo stesso anche se... Ormai c'è già tutto in cache... Refresh! Vai! Troppo veloce! Troppo veloce! E... Boh! Non lo so... Di seduto... Di seduto c'è sempre un wifi a porta di mano al lavoro... Eh! Sono in macchina? No! Starbucks! Non andate mai a Starbucks! Sono dei ladri! Una volta c'era wifi gratis! No, non toglie! Bisogna andare a panere a bread! È un altro ristorantino... Caffetteria! Per lì c'è wifi gratis! Vado ieri a Starbucks... Ho preso il frappuccino raspberry cioccolatoso... Pana montata sopra... Quattro dollari! Quattro dollari! Quattro dollari! Frappuccino però era buono! Sto caricando... Andiamo... Un minuto e quattro... Ok! O... Tri... Comunque il trucco... Cosa che non avevo mai sfruttato... Che molti diranno... Eh sì ma sono imbecillo! Non hai mai... Non hai mai sfruttato i feed! Perché me ne fai la di feed? Sono brutti i feed! E invece adesso i feed... Funzioneranno! Infatti mi sono riempito la cartella di Google Reader... Vento! 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 Comunque... Guardate quello che sono benissimo... Flash non è supportato... Se causano flash... Ci saranno un sacco di funzionalità... Ad esempio che so... Si può registrare un filmato con la camp... Come sto facendo adesso da YouTube, no? Sta registrando... Live... Così... Faccio un po' prima, no? Poi... Non lo so... OI! Si è spento! OI! ASTRO! Come cazzo! A posto! Vabbè... Siamo oltre i 2 minuti 27... Ho messo questo tema... Van Gogh... C'è lo stesso... Diciamo che questo test di G-Kiss... Ah, è ancora qui che carica! Guarda che diamo velocità a G-Kiss... Ma no! Ma perché adesso... Ha detto che devi cambiare il server... Perché ce l'arriva a casa sua... Che non fa un cavolo... SHAR! Lo conoscete tutti! Lo facciamo tutti! Eh... SHAR... Facciamo... Engadget! Anzi... Facciamo Engadget... Vabbè dai... Engadget! Quanto tempo ho a disposizione ancora? Non è che dopo mi... Vedi? Un'altra cosa che non mi va bene... E' schiacciare Bookmark quando c'è...